Quando vuoi Marco? Quando i ragazzi sono pronti? Funky per Sergio e funk per Lodi. La differenza è che il funk è nero e il funky è bianco. La differenza è che il funk, la fung, la fung, la fung, la fung. Oh, 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 oh. It's in my bed, and I can't, and I can't get enough so high, so high. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501